Si è rinnovato anche quest'anno nella Cattedrale di Atri il rito dell'apertura della Porta Santa, indulgenza concessa secondo la tradizione da Celestino V. Oltre alla Basilica Aquilana di Santa Maria di Collemaggio, avrebbe voluto fare il magnifico dono anche ad altre chiese della regione, tra queste la Cattedrale di Santa Maria di Atri, paese di un fedelissimo compagno, il Beato Francesco Ronci. E dato che la madre era originaria dell'agro atriano, Atri divenne l'altro centro della perdonanza, abbinata alla solennità dell'assunzione. Credo che è desiderio di tutti di scoprire la presenza del Signore. Viviamo in una società contemporanea dove apparentemente può sembrare che c'è distrazione rispetto all'esperienza cristiana. In realtà non è così perché vedo che anche in risera a Giulianova c'era tantissima gente, c'è questo desiderio di fare un passo in avanti, cioè di vivere l'esperienza di Raffaele come incontro personale con il Signore, sperimentare la sua presenza in mezzo a noi. La Porta Santa è un segno di questa presenza che avvenne nel giorno della vigia dell'assunzione ancora un segno più grande perché Maria ci ricorda che l'arca di allianza è nel Tempio. Dunque quando entriamo in cattedrale, quando attraversiamo la Porta Santa, noi entriamo in un luogo che ci ricorda che il Signore Gesù è davvero presente, possiamo ascoltare la Sua parola e soprattutto possiamo partecipare alla celebrazione carista che è il momento più alto della comunione reale e concreta che ci permette di vivere pienamente la nostra esistenza umana. Dopo il rito del martelletto, la porta si è aperta e oltre ai tanti fedeli, anche le autorità civili e militari con il governatore Marco Marsiglio insieme a tanti sindaci del territorio hanno varcato la porta della magnifica cattedrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.